Ciao ragazzi, sono Alex è arrivata signori la raccomandata 1 da Silda Gra giro per non mostrare i dati così come vedete è raccomandata 1 ok andiamo subito ad aprirla dovrebbe contenere un coniglio da soccorso vediamo se l'utente ha rispettato le condizioni mi ha fatto una detta mermenta oh, due carte due carte oh, razzo vulcanico gold razzo vulcanico gold boh, non gliel'ho chiesto comunque, grazie comunque Silda Gra bellissima il razzetto e poi questo dovrebbe essere il coniglio ed eccolo qua signori Rescue Rabbit first edition scusa se ho dubitato di te ma non mi arrivava la posta e mi è arrivata oggi grazie comunque utente molto affidabile scambiate con lui iscrivetevi al suo canale perché ha solo 400 un po' iscritti iscrivetevi ragazzi chi non è iscritto è un grandissimo pezzo di merda e niente da io e Rabbit vi sia valutiamo alla prossima con il deck profile del Dino Rabbit ah Rabbit cerco uno e basta perché uno l'ho comprato a 50 euro cioè l'ho già comprato l'ho già dato i soldi me lo porta sabato in fumetteria il mio amico bye bye ciao